Ciao Astronomers! In Prima Luce Lab abbiamo anche un gruppo di sviluppatori che lavorano giorno per giorno per sviluppare le nostre soluzioni di software perché vogliamo aggiungere più e più valore a quello che facciamo. E' per questo che oggi sono molto felice di lanciare la nuova update 1.7 off-play astrophotography software che aggiunge auto-alignamento, sequenziato e tagliato di target. Play è il software che stiamo specificamente sviluppando e sviluppando, non per essere un'alternativa per i software di astrophotografia, che stiamo sempre supportando, da proviamo i driver ASCOM per permettere di controllare i nostri dispositivi con software 3D, come SGP, NINA e altri. Ma per essere un modo facile di iniziare in astrophotografia, con monti e camera che preferisci! E' per questo che aggiungiamo più automazioni, quindi Play 1.7 viene con una nuova update alineamento che permette di alineare automaticamente il tuo telescopio con il cielo in un modo molto facile. Grazie all'automatica deteccia delle coordinate delle immagini del capito, l'alineamento è più veloce e preciso. Abbiamo anche ampliato il sequenziore che permette di registrare una serie di immagini. Ora puoi registrare automaticamente diverse sette di immagini, selezionando per loro un differente filtro, il tempo di esposizione, il binning e il numero di film. Inizialmente, abbiamo migliorato la tabla di target, che ora anche include l'all-sky view per farvi che velocemente controllare il tuo telescopio e la posizione di target, insieme con la tragettoria di target. Siamo davvero sperimenti che vi piacerebbe utilizzare la nuova versione Play 1.7 per controllare i dispositivi di prima luce lab e per registrare le fotografie di grande storia. Per più di contenuti che aiutano a esplorare l'università come un pro, abbiatevi al nostro canale e Clearskies!